In questi giorni sto affrontando il tema della cura dell'ansia, in particolare sto fermandomi sulle terapie farmacologiche, quindi sostanzialmente con i farmaci ad azione ansiolitica della classe delle benzodiazepine. Questo mi ha permesso di andare a fare un lavoro di ripasso di quali sono i meccanismi di questi farmaci e quindi ristudiare la fisiologia dei recettori, in un mondo davvero interessante e affascinante. Il punto però è la cura dell'ansia, sapete che l'ansia grosso modo si divide in due grandi filoni, chi è portatore di ansia si dice abbia un'ansia di tratto, cioè la personalità è tendenzialmente ansiosa. E poi vi è l'ansia di stato, cioè arriva un evento che determina questo tipo di reazione. La reazione è la reazione fisiologica di attacco e fuga, da un punto di vista fisiologico si attivano cioè quei parametri fisiologici tipici dell'allerta, quali la tachicardia, la dilatazione pupillare, l'aumento del respiro, insomma la tensione appunto dell'allerta. Accade sostanzialmente che in questo periodo in cui prevale l'elemento della paura reale e anche inconscia del tema della morte, del tema della finitudine, le persone che sono portatrici già di per sé dell'ansia di tratto siano quelle maggiormente esposte, poiché non sono strutturate a sufficienza per stare in una modalità nella quale tutti i giorni praticamente si devono fare i conti con le problematiche della paura, con le problematiche della pandemia, dell'ipotesi non così recondita di potersi ammalare con tutte le conseguenze che per il soggetto ha tutto ciò. Un approccio integrato è quello che mi sento di dire dovrebbe essere, non dico la risoluzione, ma l'esatto modo per stare con questa patologia, con questo stato, per andare in maniera più approfondita a capire perché non sono strutturato per riuscire in pratica a resistere a questo periodo. Insomma, ce n'è per tutti e della serie non ci sono soltanto le benzodiazepine a questo mondo, per fortuna.